bella a tutti raga io sono tragex e dal benvenuto in questo nuovo video raga oggi siamo qui su call of duty mobile e andremo a fare una partita tutti contro tutti raga ci vediamo in game bella ok raga siamo qui in game speriamo di vincere facciamo il volume se no non si sente niente e non si sente perso non mi muoio non mi muoio non mi muoio raga mi spardo un po non so se nel video si vede non so se nel video si deve prendere non so se nel video si può andare non so se nel video si può andare non l'hai mai visto f***a f***a non lo ha ma quando io queste mi... come madonna che si fa ma finimino in faccia addio per la dieta devi prendere mi piace la dieta non so per se è sparato non lo so 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 non so per se è sparato nemmeno io a questi mole amatoio oh no oh no oh no oh 6 6 6 6 6 6 6 no ma dai ma vattene porco giuda 6 6 6 6 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 16 15 15 15 16 18 20 20 di nabbi ci sta qualcuno o no? non ci credo raga non ci posso credere non ci credo non ci crediamo E' un'altra cosa? E' un contagio! Madonna! E' un'altra cosa? Oh my god! E' un contagio! No, no! Non ci possiamo vedere! Mi stava parrici da qua! Non ci posso vedere! No! E' un contagio! 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 No! E' un contagio! scuola scuola molto scuola 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 quindi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale